Grazie a tutti. 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 15 secondi, Titti. Finisci sopra, Titti. Finisci sopra. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Vieni a tutti. Vieni a tutti. Grazie a tutti. Corpo, grazie a tutti. Corpo, testa, stacca. Corpo, testa, stacca. Corpo, testa, stacca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buoni secondi. Buoni secondi. Grazie a tutti. 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 Gira un tuemana! Gira un tuemana. Ricora un buon tempo, Titti. Ricupera la testa! Titti recupera la testa. Testa sulla seconda. Bravo. Bravo. Brava, brava. Di buono, non volete. Gira un buono. Sì, sì, sì. Paola. Basi, basi, basi. Basi, basi, basi. Tirano su. Sì. Buona. Forza! Passa subito. Va bene, Titti, portalo, piano piano, sulla testa, non lasciare che ti controlli il braccio, recupera il braccio destro Titti, due minuti, recupera il braccio destro Titti e colpisci pesante, occhio che ti non sei controllato, stai super la testa, cambia, cambia, cambia. Cambia, 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 vai, vai, tenili la testa lì, abbi la guardia, ok, abbi subito, la guardia aperta, tieni la testa a sinistra, pesante sulla testa, non sulla testa Titti, lena, intelligenza, non sulla testa Titti, stavi lei sulla testa, no, la testa a destra, passa a sinistra. Un minuto Titti, non farti forse, non un minuto, sulla testa, sì, sulla testa, testa a sinistra, no, 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 infazio, infazio, infazio. Un minuto Titti. Un minuto Titti, un minuto Titti. Un minuto Titti, un minuto Titti, non sarò il bio? Siamo rialzati, siamo rialzati. 30 secondi, Vitti. Vanno a farti i pochi, la cura, la testa, non lasciare le mani. 10, 10, 10, Vitti. 15 secondi, Vitti. Resto, 15 secondi. Non lasciare niente. 10 secondi, Vitti. Non lasciare niente. 5 secondi, Vitti. 5 secondi, Vitti. 5 secondi, Vitti.